Sul fronte della sistemazione dei problemi del sistema fognario sono in corso numerosi cantieri, 20 cantieri complessivamente si completeranno entro il 2023, 5 si completeranno già entro il 2022, sono il frutto del monitoraggio di oltre 1000 km di fognatura e delle criticità che abbiamo individuato, altre ci vengono segnalate, questo lavoro proseguirà con la straordinaria collaborazione di Alfa, come proseguirà il prelevi polimnico, quest'anno purtroppo abbiamo dovuto fermarlo per la scarsa quantità di acqua che non ci consentiva di tirarne fuori ulteriore e quindi l'anno prossimo riprenderà a pieno regime e così come prosegue l'attività di diffusione di conoscenza di quello che stiamo facendo. Stiamo anche ragionando sul futuro, la QST si concluderà con questa legislatura nella sua prima fase ma proseguirà nella prossima legislatura regionale con chi sarà chiamato a coordinarlo su altri spunti di lavoro.